Un centro logistico organizzato benissimo, tant'è che i soldi che noi abbiamo trovato erano sottovuoto e quindi abbiamo sequestrato anche la macchina utilizzata per creare il sottovuoto, sia dei soldi che il sottovuoto della sostanza stupefacente sequestrata. Sappiamo che elude il controllo anche dei cani, rende più difficile l'individuazione del prodotto una volta che viene sistemato. Più che un market della droga, un vero e proprio centro logistico che con ogni probabilità operava su tutto il nord-est, sono impressionanti e forse senza precedenti nella storia recente i numeri del blitz scattato nottetempo in un'abitazione isolata di Silea, troppi movimenti sospetti di auto di grossa cilindrata che hanno portato i militari a stringere il cerchio. Una decina i carabinieri della compagnia di Treviso, coordinati dalla procura, che hanno fatto irruzione trovando tre uomini, il proprietario di casa, un 45 anni italiano, e due cittadini albanesi di 32 e 43 anni. Ne è seguita una notte di sopralluoghi e perquisizioni con numeri da record, 49 kg di ashes, 8 di marijuana, 35 g di eroina, 96 dosi di ecstasy, addirittura 770 sigarette elettroniche con il principio attivo della cannabis, ma soprattutto, caso più unico che raro, 410 mila euro in contanti, provento dell'attività illecita. Perché 410 mila euro in unica soluzione, nel medesimo luogo, non è una costante. A cristallizzare un giro d'affari super, anche il sequestro di quello che può essere definito ad ogni buon conto un libro mastro della droga. Dove ci sono appunto tracciati gli acquisti, le vendite delle sostanze stufeficenti, ci ha permesso di stabilire che quel luogo era un luogo stabilmente usato da molto tempo per diffondere lo stupefacente non solo in quella cittadina, ma probabilmente in realtà molto più ampie, che forse vanno anche oltre la provincia di Treviso. I tre uomini, l'italiano e i due albanesi, sono stati portati al carcere di Santa Bona. A disposizione dell'autorità giudiziaria, all'arma trevigiana e il plauso del presidente Luca Zaia, la legalità, ha detto, è un bene prezioso, ma l'indagine sembra solo all'inizio. Dal blitz di Silea, vista la mole, potrebbe innescarsi un effetto domino su tutta la rete dello spaccio provinciale e regionale.